Allora, io vorrei fare un applauso a Enzo, perché noi, il nostro tastellista, che ha anche il nostro attivo audio, e il nostro attivo è stato all'ospedale, perché è nata la nostra, la bambina, la nostra figlia, quindi siamo trovati in emergenza, e lui, guardate, sta a fare un lavorone, che non l'ha mai fatto, quindi è grande Enzo, grande, sta proprio lo compiuto, non è anche il suo, quindi io avevo una tragedia, vengo io, ce li provo No, 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 no buon Buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.